Non compatto alle scorie nucleari, Lanci chiama a raccolta tutti i comuni, invitandoli ad esprimere la propria contrarietà alla realizzazione del deposito unico in Basilicata. Via libera dal Consiglio regionale alle nuove norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella seduta di ieri passate a maggioranza le modifiche alle leggi regionali in materia. Fiamme spari al centro oli di Tempa Rossa, fuoco una betoniera, si tratta del secondo episodio del genere nel giro di 15 giorni. Il tentato stupro ai danni di una cinquantenne avvenuto ieri mattina in pieno centro storico. A Potenza in città si respira incredulità e sgomento. Nel pomeriggio presidio in piazza Prefettura per chiedere maggiori controlli. Tutto pronto a Villa d'Agri per la Notte Bianca che sabato animerà le strade di Marsico Vetere nel programma Danza, Pittura, Enogastronomia, Animazione e tanta buona musica. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv. Lo avete sentito dai titoli No alle scorie nucleari. L'Anci ha chiamato a raccolta tutti i comuni invitandoli ad esprimere la propria contrarietà al deposito unico in Basilicata. Ieri mattina il dibattito a San Fele. Su Matera 2019 i sindaci hanno chiesto un maggiore coinvolgimento a distanza di poco più di un anno dall'evento. Sentiamo tutti i dettagli da Michelangelo Russo. Ferma contrarietà alla realizzazione del deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi e il rilancio del tema della partecipazione di tutti i comuni lucani alla grande sfida di Matera 2019. Sono i punti su cui è ruotato il dibattito del Consiglio Direttivo Anci straordinariamente convocato a San Fele. Il presidente aduce i sindaci presenti e hanno definito gli aspetti programmatici e organizzativi della prossima assemblea regionale degli amministratori locali lucani che si terrà nei primi giorni del prossimo mese di ottobre. Come già è accaduto l'anno scorso, l'Anci ha scelto un tema su cui concentrare le riflessioni dei sindaci e degli amministratori. Il padrone di casa, donato sperduto, ha esordito battendo proprio sullo scarso protagonismo dei comuni nel percorso verso Matera 2019. Noi sindaci e amministratori prima siamo stati chiamati a dare il proprio assenso a che Matera diventasse capitale della cultura 2019, l'abbiamo fatto con grande gioia e vogliamo che questo continua e non sia soltanto stato un momento, ma sia una continuità amministrativa per riconnettere Matera, Matera è la Basilicata e quindi Matera è anche San Fele, Matera è anche un piccolo comune che va inquadrato in un contesto di protagonismo vero degli enti locali che devo dire la verità manca un po' negli ultimi periodi. Da qui la proposta del sindaco di Colobraro di chiedere un coinvolgimento diretto dei comuni all'interno della fondazione Matera Basilicata 2019, proposta accorta da Duce. Mi sembra assolutamente ragionevole insieme al fatto che i comuni magari invece di andare al rapporto alla spicciolata, come potremmo dire, potrebbero raggrupparsi all'interno delle aree programma, degli ambiti dove attualmente svolgano funzioni associate, per poter proporre propri progetti, proprie iniziative e fare in modo che non ci sia una dispersione, una frammentazione, ma ci sia una concentrazione di iniziative e di attività che possono essere utili all'intera Regione. Ed ora parliamo del via libera del Consiglio regionale alle nuove norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella seduta di ieri passate a maggioranza le modifiche alle leggi regionali in materia. Sentiamo Mariolina Notargiacomo. Assicurare la tutela dei beni paesaggistici presenti nel territorio regionale nonché conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e di valorizzazione delle energie rinnovabili e lo scopo delle modifiche approvate dal Consiglio regionale di Basilicata a maggioranza con 15 voti favorevoli e l'astenzione di PDL Forza Italia a due norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili. Previste nuove aree e siti non idonee all'installazione di impianti integrati anche i criteri concernenti il corretto inserimento nel paesaggio sul territorio di impianti da fonti di energia alternative da 0 a 1 megawatt. Quanto alle autorizzazioni si è deciso di restringere l'utilizzo della procedura abilitativa semplificata agli impianti fino a 200 kilowatt. Inoltre sono stati definiti i limiti dell'utilizzo delle pass sia per gli impianti fotovoltaici sia per quelli eolici. Disciplinate inoltre le prescrizioni in merito agli impianti di mini-eolico le nuove norme saranno applicate a tutti i procedimenti in corso alla data in entrata in vigore dalla legge. Approvato all'unanimità nel corso della seduta un ordine del giorno collegato al disegno di legge proposto da Sant'Arsiero e Giuzio del PD per invitare i comuni a predisporre entro 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge per il proprio territorio di competenza l'individuazione di ulteriori aree e siti da attenzionare per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Intanto ieri proprio durante la discussione in Consiglio regionale della nuova legge sulle rinnovabili che ha portato poi all'approvazione sotto il Palazzo della Regione andava in scena una manifestazione di protesta questa volta organizzata dai favorevoli all'eolico con la partecipazione di cittadini, imprenditori del settore e lavoratori si teme che le nuove misure più stringenti rispetto al passato possano determinare la perdita delle commesse in ballo ci sarebbe il destino di 200 aziende del comparto. Una betoniera data alle fiamme siamo alla cronaca la notte scorsa nel cantiere della Total a Tempa Rossa si tratta del secondo episodio nel giro di due settimane sentiamo Michelangelo Russo Si tratta del secondo episodio nel giro di poche settimane anche se al momento è prematuro parlare di un possibile collegamento nella notte tra lunedì e martedì nell'area del cantiere per la realizzazione del centro oli di Tempa Rossa è stata data alle fiamme una betoniera il mezzo appartiene all'impresa del gruppo Leone di Roccanova una sentinella si è resa conto di quello che stava accadendo e ha provato a intervenire incrociando i probabili autori dell'incendio doloso si sarebbero uditi anche dei colpi di pistola ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Vigiano per domare le fiamme e procedere a tutti gli accertamenti del caso resta da capire se le telecamere di videosorveglianza abbiano ripreso i momenti in cui il mezzo pesante è stato dato alle fiamme poco più di dieci giorni fa un episodio simile si era verificato a guardia per Ticara quando una delle vetture utilizzate per la vigilanza del cantiere di Tempa Rossa era andata in fiamme nel parcheggio dove lasciano le vetture anche i lavoratori del cantiere stesso un'altra vettura era stata invece rubata e ritrovata abbandonata in una scarpata in territorio di Armento il tentato stupro ai danni di una cinquantenne avvenuto ieri mattina in pieno centro storico a Potenza in città si respira incredulità e sgomento all'indomani dell'arresto del giovane di vent'anni originario della Guinea che ha aggredito la donna nel ladrone di un palazzo palpandole il seno con il chiaro intento di abusarne sull'episodio interviene la presidente della commissione regionale pari opportunità Angela Brasi ogni stupro deve essere condannato come donna e come presidente della commissione pari opportunità di Chiara Blasi sento il dovere in un momento così doloroso di riservare tutta la solidarietà e la vicinanza fisica e morale mia e delle commissare la donna rimasta vittima di tale violenza intanto oggi pomeriggio alle 17 il Movimento Nazionale per la Sovranità e Fratelli d'Italia terranno un presidio in piazza Mario Pagano per chiedere al prefetto maggiore controllo e più sicurezza rimane da chiarire la dinamica dell'incidente mortale verificatosi nel pomeriggio di ieri intorno alle 16 sulla strada provinciale 103 nei pressi di Grumento a perdere la vita un 21enne di Vigiano Gianfranco Pecora ad allertare i soccorsi alcuni passanti che hanno notato il ragazzo riverso sull'asfalto poco distante dalla sua moto sul posto oltre ai sanitari del 118 giunti in ambulanza anche i carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi del caso nel pomeriggio a Lizzano in provincia di Taranto i funerali di Giuseppina Spagnoletti la bracciante agricola di Bernalda deceduta giovedì mentre era al lavoro nei campi a Ginosa la donna sarebbe morta per una ritmia riscontrata nell'ambito dell'autopsia effettuata ieri dal medico legale Marcello Chironi la 39enne era originaria di Lizzano in provincia di Taranto ma viveva a Bernalda sul suo decesso è stata aperta un'inchiesta da parte della procura di Taranto e dal momento il titolare dell'azienda agricola per la quale la donna lavorava risulta indagato ed ora ci fermiamo per la pubblicità Innova Impianti a Potenza Progetta realizza qualsiasi tipo di impianto per la vostra abitazione o per locali privati e pubblici scegliendo tra le migliori soluzioni sul mercato in termini di qualità e affidabilità 9 impianti di Aldo Capitini 26 a Potenza per informazioni il sito noveimpiantipotenza.eu mail info-9impiantipotenza.eu scegliete subito l'impianto che vi farà risparmiare energia Tribù Lucane, dialetto il nuovo album di Graziano Accinni Dal primo giugno in abbinamento facoltativo con la Nuova del Sud Tribù Lucane, dialetto chiedi al tuo edicolante il nuovo CD di Graziano Accinni e dopo la pubblicità riprendiamo il nostro Tg il 48% degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado in Italia non ha accesso alla mensa scolastica l'assenza di regole condivise inoltre contribuisce all'ampia disparità nelle modalità di accesso e di erogazione del servizio a rilevarlo il rapporto non tutti a Mensa 2017 realizzato da Saved Children alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico il quadro che emerge è allarmante in otto regioni italiane oltre il 50% degli alunni più di un bambino su due non ha la possibilità di accedere al servizio Mensa la forbice tra nord e sud continua a essere ampia con cinque regioni Sicilia, Puglia, Molise, Campania e Calabria che registrano il numero più alto di alunni che non usufruiscono della riflessione scolastica e a potenza il servizio Mensa partirà il primo ottobre il primo giorno di scuola l'11 settembre sarà garantito anche il servizio di assistenza all'autonomia a renderlo noto e la cooperativa sociale Multiservice ed ora parliamo di contrasto alla ludopatia e al gioco d'azzardo il Movimento 5 Stelle ha inviato una lettera a tutti i sindaci dei 131 comuni lucani invitandoli a far rispettare la legge regionale in materia approvata nel 2014 ma mai applicata sentiamo il contrasto alla ludopatia in Basilicata può contare su una legge regionale approvata il 27 ottobre del 2014 ma mai fatta rispettare appieno non che i lucani risultino immuni dal fenomeno che anche per la nostra regione come per il resto del paese fa segnare cifre preoccupanti nel solo 2016 infatti sono stati 16 milioni gli italiani fra i 15 e i 64 anni coinvolti per una spesa complessiva di 25 miliardi di euro e il 25% di questi manifesta una dipendenza la legge regionale la numero 30 recante misure per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico è rimasta inapplicata neppure dopo la sua integrazione il provvedimento ha preso piede rimanendo nei cassetti dei comuni che attraverso la polizia locale avrebbero dovuto farla rispettare i controlli non sono stati mai avviati a partire dal cosiddetto distanziometro ovvero la distanza che deve intercorrere tra le slot machine e alcuni luoghi sensibili come le scuole le chiese i centri associativi in prossimità dei quali non possono essere installate macchinette se non in un raggio di 500 metri le slot autorizzate alla data del primo gennaio 2017 attive ma non in regola con questa misura devono essere rimosse ma ciò non è mai avvenuto anzi continuano a proliferare la legge regionale è stata riesumata dal Movimento 5 Stelle che ha inviato a tutti i sindaci lucani una lettera con cui si invitano gli amministratori a far rispettare le norme l'iniziativa è stata presentata a potenza nel corso di una conferenza stampa dei consiglieri regionali pentastellati Gianni Leggeri e Gianni Perrino la nostra iniziativa cerca in qualche modo di sollecitare i sindaci a che insomma si applichi correttamente quello che è disposto all'interno della legge e quantomeno evitare di rilasciare licenze ad attività nuove che vogliono ubicarsi in barba a quello che è stabilito dal cosiddetto distanziometro che è stabilito in uno degli articoli della legge ma ricordiamo questo distanziometro dal gennaio 2017 doveva essere applicato a tutte le attività non solo a quelle nuove però noi abbiamo avuto come dire delle segnalazioni da parte dei cittadini che addirittura ci dicono che ci sarebbero delle nuove attività che chiedono di essere ubicate all'interno di quello che dovrebbe essere come dire una no slot zone che però invece sembrerebbe del tutto disattesa la speranza oggi abbiamo insomma voluto amplificare quanto fatto tramite via PEC e oggi siamo qua abbiamo fatto assieme al collega Verrino assieme al nostro staff questa conferenza stampa per sensibilizzare ulteriormente quanto abbiamo fatto in questi giorni con l'invio dalla PEC ai 131 sindaci dei comuni della nostra regione Basilicata noi la faccia ce la stiamo mettendo perché crediamo che si tratti di un problema molto come è stato già accennato dal mio collega molto cogente che riguarda un gran numero anche di di cittadini lucani per cui riteniamo che tutti debbano fare la propria parte noi stiamo cercando di fare la nostra parte andando a sollecitare i sindaci ma è ovvio che non è che vogliamo gettare la croce addosso ai sindaci chiediamo che venga fatta rispettare la legge effettivamente il problema è grosso non solo vicino alle scuole vicino a parrocchie vicino a tutto quello che può essere sensibile perché fino a quando gioca un maggiorenne che ha la capacità di volere un discorso ma quando ci troviamo dei ragazzini di 8-10 anni che stanno già nel mondo che vanno a giocare alla slot per tentare il colpo di fortuna che poi una fortuna non è ma quello è un colpo di sfortuna Silicata per quello che ci risulta da un rapporto della Svimez di qualche anno fa il giro d'affari legato al gioco d'azzardo in generale è di intorno al mezzo miliardo di euro di cui i tre quinti quasi 291 milioni imputabili ascrivibili alle slot machine noi chi di noi non va in un bar e vede che cosa accade la mappatura degli immobili pubblici e privati inutilizzati riguarderà anche la Basilicata dal biminale partita a tutti i prefetti una nuova circolare che si propone di mettere insieme le esigenze di ordine e sicurezza pubblica i diritti dei proprietari degli immobili e le condizioni degli occupanti in Basilicata si stima che siano 100.000 le case sfitte le abitazioni vuote sono il 29,4% dell'intero patrimonio edilizio una cifra altissima innescata dall'effetto emigrazione Ennesimo atto vandalico al parco Elisa Claps al rione Macchia Romana a Potenza i noti hanno deturpato il quadro della Madonna inserito nell'edicola votiva inaugurata lo scorso maggio la panchina dove i fedeli si riuniscono per recitare la preghiera del rosario ogni venerdì oltre ad altri arredi urbani l'amministrazione comunale ha chiesto agli organi di polizia ad effettuare le indagini del caso ma confida questo quanto si legge in un comunicato stampa nel supporto che possono offrire i cittadini in questo e in altri casi simili attraverso la denuncia di tutti quei comportamenti che provocano danni al patrimonio pubblico e siamo alla pagina degli eventi la seconda stagione dello spettacolo la signora del lago si chiude con un bilancio più che positivo vediamo bilancio positivo per la seconda stagione a Nemoli della signora del lago domenica 3 settembre nel suggestivo scenario del lago Sirino è andata in scena l'ultima replica della stagione 2017 che ha chiuso il primo bienio di gestione affidato a lati costruzioni generali rappresentata da Angelo Mastroiani di Lago Negro e opera prima di Giampiero Francese di Melfi per il sindaco di Nemoli Domenico Carlo Magno sono stati due anni importanti per il territorio caratterizzati da un bilancio più che positivo lo spettacolo infatti ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso proveniente dai paesi della Basilicata e dalle regioni vicine i dati della seconda stagione in cui si sono verificati diversi sold out evidenziano tra l'altro un aumento significativo delle presenze nell'aria e delle prenotazioni online la signora del lago ideata come esperimento di narrazione territoriale con giochi d'acqua danza aerea teatro 50 attrattori figuranti e ballerini ogni sera ha raccontato una parte di storia cultura e tradizioni di un lembo di terra ai piedi del Monte Sirino abbiamo realizzato un evento che ha segnato ed ha scritto una bella pagina di questo territorio ha dichiarato l'autore e regista dello spettacolo Giampiero Francese quando l'arte si mette a servizio di un territorio diventa un valore aggiunto per tutti tutto pronto a Villa d'Agri per la notte bianca che sabato animerà le strade della frazione di Marsico Vetere il programma dell'iniziativa è stato illustrato ieri pomeriggio nella sala consigliare di piazza Zecchettin cultura, danza pittura enogastronomia animazione per i più piccoli e tanta musica come quella di Giovannelli DJ di fama internazionale ospite di punta della manifestazione organizzata dalla Comart l'associazione dei commercianti e degli artigiani di Villa d'Agri nata lo scorso maggio per il rilancio delle attività locali e che in breve tempo ha raggiunto quota 130 iscritti obiettivo trasformare il centro valigiano in un grande centro commerciale a cielo aperto e da parte mia è tutto ora la linea a mano e la scalese per le notizie sportive grazie per la cortese attenzione buon proseguimento di giornata e eccoci con il concetto appuntamento della nuova sport in primo piano il calcio il girone C di serie C apriamo dal Matera perché dopo la sconfitta contro la Sicula Leonzio è intervenuto lunedì sera in occasione di ma che calcio dici il direttore sportivo biancazzurro Gianluca Torma per fare il punto in casa Matera Lunedì il DS del Matera Gianluca Torma ha parlato alla trasmissione Mac e Calcio Dici della nuova tv facendo il punto della situazione in casa biancazzurra dopo la sconfitta con la Sicula Leonzio l'anno scorso il Matera ha chiuso al terzo posto una finale di Coppa Italia persa immeritatamente ha fatto grandissime cose e soprattutto questo è merito del mister Auteri che ha valorizzato tantissimi calciatori in serie C quando ti arrivano richieste per i calciatori bisogna venderti e non ti nascondo che è sempre più difficile fare mercato in uscita che fare mercato in entrata paradossalmente quest'anno è il contrario abbiamo avuto tantissime richieste per i nostri calciatori e c'è stato un momento che altri calciatori che avevano fatto richieste di cui Scambelli e che il Padova aveva fatto una buona offerta economica sia al Matera il calciatore però poi il calciatore è rimasto con noi siamo veramente contenti che Scambelli sia rimasto perché secondo me Scambelli è un calciatore di categoria su Fio che sicuramente potrà fare molto bene e quindi abbiamo fatto molto mercato in uscita e soprattutto abbiamo rivoluzionato in entrata con dei nomi importanti per la categoria soprattutto anche dei giovani quindi bisogna dargli tempo aspettare per avere questa ansia di risultati ma soprattutto dare a secchi la possibilità che possa amalgamare questa squadra per quanto riguarda la sconfitta contro i siciliani il direttore sportivo del Matera ha così commentato sicuramente non siamo stati brillanti come nelle altre precedenti partite però alla fine secondo me il risultato del pareggio poteva essere giusto perché poi è l'ultimo l'ultimo episodio del calcio di rigore ma là stavamo quasi già nel tempo di recupero che perdevamo 2 a 1 e un po' diciamo il gol del loro vantaggio sul calcio d'angolo ha un po' tagliato le gambe Radiomercato parla di un materattivo sul mercato degli svincolati e il DS Torma ha fatto chiarezza al riguardo rispetto ad altre squadre noi abbiamo 11 over e una bandiera e un fidelizzato quindi abbiamo ancora tre posti over sicuramente saremo vici sul mercato se capiterà l'occasione padron Columella non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro in questi anni ricordiamoci che è un campionato vinto campionati di Lega Pro da vertice importante grazie alla sua passione sui grandi sforzi economici perché ti dico che attualmente mantenere una squadra in Lega Pro non è facile quindi faccio un appello a tutta la disposizione a tutta la città di Matera stringersi intorno a questa squadra e cercare di aiutarci starci sempre vicino perché comunque noi dobbiamo toglierci soddisfazioni ma sempre con equilibrio a fare voli pittarici ma a mantenere sempre quell'umiltà e restiamo in Serie C perché il collegio di garanzia dello sport del CONI ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dai presidenti della FIGC Carlo Tavecchio e della Lega Pro Gabriele Gravina per far annullare il reintegro della Vibonese in Serie C si tratta della prima volta che una federazione non quindi una procura impugna presso il collegio di garanzia una sentenza di una propria corte d'appello se il collegio giudicasse ammissibile il ricorso la Vibonese tornerebbe dunque in Serie D anche se la società calabrese ha già fatto sapere che in caso di mancato ripescaggio in C si ritirerebbe dal campionato e scendiamo di categoria passando al girone HD Serie D perché a potenza si attende l'arrivo dell'attaccante brasiliano Carlos Clay Franza mentre Mr. Ragno recupererà tre pedine importanti contro il Gragnano idem per il Picerno di Arleo che contro il Pomigliano ritrovererà Raffaele Ioime e Emanuele Esposito il Francavilla invece ha ripreso la propria preparazione per riscattare il pari casalingo contro la Frattese dopo le tre sberle rifilate alla cavessa a Simonetta Lamberti in occasione del primo turno del girone HD Serie D il potenza si è ritrovato ieri al Viviani per riprendere la preparazione in vista del Gragnano alla ripresa dei lavori tutti a disposizione di Mr. Nicola Ragno che contro la formazione campana ritroverà tre pedine importanti ha scontato il turno di stop Gaetano Ungaro mentre il difensore ucraino Brukov farà ritorno dalla nazionale torna a disposizione anche il cigno Mirko Guadalupe visto che sono dei corsi i 30 giorni più uno previsti da regolamento dall'ultima presenza in Coppa Italia con la maglia del Biceglie alla luce della norma regolamentare non potrà far parte dei convocati il brasiliano Carlos Clay Franza che potrà indossare la maglia numero 9 del potenza a partire dal primo ottobre quando i rosso-blu affronteranno in casa il team Altamura in occasione della quinta giornata l'ex Triestina fare il suo arrivo nel capologo in giornata per aggregarsi al gruppo nella giornata di domani quando in serata sarà prevista la presentazione ufficiale del potenza all'interno della festa di Santa Cecilia Ripresa degli allenamenti con il morale alto in casa Picerno dopo la vittoria contro il Sansevero tre punti che serviranno per affrontare la settimana con il morale a mille e che proietteranno il Picerno verso la trasferta di Volla contro il Pomigliano sul campo si è aggregato anche il terzino classe 97 Davide La Gioia già Picerno nella passata stagione ed in procinto di firmare nuovamente per il rosso-blu per la gara in terra vesuviana mister Arleo dovrebbe recuperare Ioime mentre sarà certamente del match Emanuele Esposito che ha scontato il turno di squalifica proverà ad essere della partita o quantomeno tra i convocabili anche Giuseppe Lolaico anche lui ferma i box poche speranze invece per Caponero e Roberto Esposito mentre Agresta è rimasto a riposo precauzionale Il Francavilla ha ripreso la sua preparazione dopo l'1-1 casalingo contro la Frattese ci sarà da lavorare sodo e recuperare energia al più presto per affrontare con la giusta determinazione e concentrazione le due trasferte ostiche in terra pugliese contro Sansevero e Gravina intanto è confermato l'infortuna legamento crociato del difensore Matteo De Gaulle che sarà costretta a uno stop di qualche mese potrebbe invece tornare a disposizione a partire dalla prossima gara il giovanissimo attaccante partenopeo Giuseppe Carcatella così come il terzino Francavillese Nicolás Nicolau costretto al forfè al debutto E restiamo in orbita calcio facendo però un balzo fuori dal campo perché c'è stato un ospite d'eccezione alla prima iniziativa promossa dal Rotaract Club di Potenza l'ex portiere della Nazionale della Juventus Stefano Tacconi una lezione sulla leadership tenutasi nella sala del cortile del Museo Nazionale di Potenza nella quale si è voluta sottolineare l'importanza di essere un leader nello sport e nella vita durante l'incontro ex calciatore ha sottolineato l'importanza di avere fin da piccoli un carattere predisposto all'esercizio della leadership anche se questa caratteristica non si possiede dalla nascita leader si può diventare ciò che conta sono le esperienze che sono quelle che ti danno la forza per esserlo presente all'incontro il presidente del Rotaract Club Potenza Stefano Dragonetti e l'assessore comunale allo sport Valerio Enrico anche il Potenza Calcio ha voluto contribuire all'evento con la donazione di 30 biglietti omaggio all'IAS di Potenza per la partita del 10 settembre e chiudiamo l'ampea pagina dedicata al calcio passando alla palla a spicchi vale a dire al basket perché si avvicina uno degli appuntamenti più sentiti del basket lucano che si svolgerà a Potenza il 9 e il 10 settembre il torneo Vito Lepore giunto ormai alla 25esima edizione che vedrà la partecipazione delle rappresentative regionali dell'annata 2004 di Basilicata Calabria Molise e Sicilia e rientra nell'attività organizzata dal settore squadre nazionali in preparazione del trofeo delle regioni 2018 il torneo organizzato dall'associazione Amici di Vito Lepore e dal comitato FIP Basilicata che in occasione della cerimonia di presentazione della manifestazione premerà con gli Oscar del basket lucano le squadre vincitrici dei campionati 2016-2017 e i tesserati che si sono particolarmente distinti nella scorsa stagione sportiva e concludiamo proiettandoci sotto rete passando al volley perché è iniziata ufficialmente lunedì la stagione agonistica della PM Volley Potenza la formazione potentina cara al presidente Michele Ligrani si è radunata nel tardo pomeriggio di ieri per iniziare la preparazione in vista della partecipazione al prossimo campionato di Serie C pugliese che inizierà nel weekend del 14-15 ottobre il roster potentino si è radunato agli ordini del tecnico riconfermato Pamela Petrone che sarà affiancata per il campionato di Serie C dal vice Marco Orlando che darà il suo preziosissimo apporto anche alle formazioni giovanili affidate come sempre ad Elena Ligrani la società è a lavoro per completare il roster con giovani ragazze locali e di talento per poter offrire ai tecnici Petrone e Orlando un roster di ottimo livello con quest'ultima notizia si conclude il nostro ampio approfondimento inerente a tutte le discipline sportive lucane rimandando l'appuntamento alla prossima edizione del TG grazie mille per essere stati con noi buon proseguimento con il palinzesso della nuova TV grazie mille